Sindaco Maragno, un protocollo d'intesa con la Prefettura per la piena integrazione degli immigrati a Montesilvano. E' questo il senso di questa iniziativa? Noi ospitiamo diversi profughi al Montesilvano, oggi vengono vissuti dal territorio come un problema, noi vogliamo che diventi una risorsa. L'integrazione fa bene al territorio nel momento in cui i soggetti da integrare si mettono a disposizione per il territorio. E noi crediamo molto nel discorso della cittadinanza attiva che deve essere stesa ovviamente anche agli ospiti che vengono a Montesilvano. Non a caso siamo uno dei 46 comuni che hanno licenziato un regolamento sulla rigenerazione dei beni comuni che mette a disposizione il territorio per tutti quei soggetti che hanno buona volontà, idee e responsabilità di rilanciare il territorio. Questo protocollo va esattamente in questa direzione, vogliamo che il profugo non venga più visto come un problema, ma vogliamo che il cittadino abbia il profugo come riferimento per i piccoli lavoretti del quotidiano che magari il comune non riesce a fare. Oggi ritengo che si è messa una firma su un documento che può apportare grandissimi benefici sul territorio. Ad oggi gli immigrati che noi ospitiamo a Montesilvano sono circa 70. Ricordiamo che questo protocollo viene fatto esclusivamente su base volontaria, però sono gli stessi profughi che oggi ci richiedono di poter svolgere delle attività sul territorio. Quindi oggi sostanzialmente noi andiamo a comparare le esigenze dell'amministrazione, le esigenze della città di Montesilvano con le esigenze di questi ospiti, io li chiamo ospiti, che chiedono di poter essere integrati, di poter svolgere delle attività gratuitamente sul territorio di Montesilvano.